Passiamo agli eventi. San Sebastiano da Po nel Torinese è presentato a Cascina Caccia il progetto Abbuffate. A San Sebastiano Po ha debuttato il progetto Abbuffate. L'evento si è svolto in Cascina Caccia nel cortile di un bene confiscato alla mafia e dedicato alla memoria di Carla e Bruno Caccia, procuratore capo di Torino, assassinato dall'Andrangheta nel 1983. Il progetto Abbuffate promuove l'agricoltura sociale che opera nel territorio torinese con una particolare attenzione non soltanto alla produzione di cibo ma anche al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati che trovano nell'agricoltura sociale un'occasione di riscatto esattamente come è stato per le mura della Cascina abitate dall'Andrangheta fino ai primi anni del 2000. Il progetto Abbuffate è realizzato dalla cooperativa sociale Exit in partnership con Coldiretti Torino e UECOP Piemonte e finanziato dalla fondazione Time2 nell'ambito del bando prossimi e dal programma Top Metro Fabene promosso dalla città metropolitana di Torino e Snodi e sostegno del comune di Moncalieri. Con il progetto Abbuffate è stato realizzato un epaniere della provincia di Torino che racconta le storie delle aziende e la gamma di prodotti e servizi che offrono. Ecco le interviste a Matteo Castella, presidente della cooperativa sociale Exit, Fabio Nicola, responsabile della comunità Cascina Caccia di San Sebastiano da Po e Dornella Cravero, componente del direttivo Coldiretti Torino. Il progetto Abbuffate è nato da un'iniziativa della cooperativa sociale Exit di Coldiretti Torino e di UECOP Piemonte per provare a riunire in una rete unica tutte le aziende agricole sociali della provincia di Torino e quindi dei territori. Con questo progetto vogliamo valorizzare i loro prodotti, oltre che all'impatto che hanno nella comunità di riferimento attraverso l'inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio che attraverso l'agricoltura hanno un'occasione di riscatto e di miglioramento della loro condizione di vita economica e sociale. Il progetto Abbuffate ha infatti realizzato un paniere, il primo paniere del cibo civile che ricomprende quindi i prodotti di tutte queste aziende agricole con l'obiettivo appunto di valorizzarle. Sono prodotti eccezionali, meravigliosi, che raccontano le storie dei territori e che raccontano anche storie di agricoltura sociale, quindi storie di inclusione, di inserimento lavorativo, di miglioramento delle condizioni di vita di persone in condizioni di svantaggio, persone fragili dei nostri territori. Il progetto Abbuffate debutta oggi a Cascina Caccia, in questo luogo meraviglioso che è una cascina che è stata confiscata all'Andrangheta nel 2007, che ha ripreso vita e che rivive oggi anche grazie all'agricoltura, perché è presente un noccioletto, c'è una gastronomia sociale e anche qua ci sono occasioni di inserimento lavorativo e quindi di impatto sociale per tutto il territorio di riferimento, il territorio di San Sebastiano d'Appò. Le aziende del paniere e del cibo civile le trovate sul sito abbuffate.com e ovviamente ogni azienda è rappresentata per quello che produce, quindi troverete non solo l'elenco delle aziende ma anche i servizi che svolgono e i prodotti che producono. Sono tutte aziende multifunzionali, che molte di queste sono anche biologiche, che hanno un ruolo non solo nel garantire un futuro a persone in condizioni di svantaggio ma anche che tutelano un territorio meraviglioso nell'interno del quale sono inserite. Cascina Caccia è uno dei più importanti beni confiscati, riutilizzati socialmente del nord Italia. Apparteneva alla famiglia dei Belfiore, che è stata mandante dell'omicidio del procuratore della Repubblica di Torino, Bruno Caccia e che è stato ucciso la notte del 26 giugno 1983. Oggi dopo un lungo periodo e un duro lavoro è stato restituito alla collettività e in questo momento è una sede di molteplici attività. Sicuramente dal 2007, giorno dello sgombero della famiglia, i vi residenti, è presente un presidio continuo. Quindi appunto dal 2007 ad oggi c'è sempre qualcuno in Cascina Caccia a presidiare il luogo, a tenerlo aperto. E' il punto presidio nel quale appunto noi viviamo. In questo momento ci sono cinque persone che vivono all'interno del bene e che si occupano di gestirlo e tenerlo aperto. E di incontrare soprattutto anche poi le centinaia e centinaia di giovani da tutta Italia e non solo che vengono a visitare questa esperienza. Quindi c'è un grossissimo lavoro educativo che viene svolto costantemente, sia con le scuole sia con i campi. Inoltre, da qualche tempo ormai qui lavora la cooperativa Nanà che si occupa di fare alcune produzioni enogastronomiche, alimentari, con prodotti del territorio e tra l'altro qui è anche presente un noccioletto di tonda gentiere del Piemonte dedicato a Vito Scafidi, ragazzo ucciso nel crollo del Darwin del 2008 e anche un apiario. Quindi da notare appunto in Cascina Caccia un prodotto in particolare che è il miele. Il miele è stato il primo prodotto di libera terra di tutto il nord Italia. E appunto con questi elementi e poi appunto anche con la magnifica location da qualche anno ormai si realizzano anche matrimoni, eventi per persone che scelgono questo tipo di cornice per le loro giornate importanti. Quindi scelgono di dare un certo tipo di valore ai loro momenti. Per noi anche oltre al grosso valore diciamo educativo del bene c'è anche valore economico perché significa che si riesce a generare lavoro. Dove prima c'era malaffare, dove prima c'erano omicidi, dove prima c'erano un sacco di illeciti si riesce a generare lavoro onesto e pulito. Per dire che le mafie possono essere sconfitte e devono essere sconfitte sul piano delle relazioni e sul piano del lavoro in primo luogo. Per Coldiretti l'agricoltura sociale è molto importante perché è dalle possibilità alle aziende agricole e alle cooperative sociali di fare delle attività di integrazione per le persone fragili per quelle persone che hanno bisogno di essere integrate nel mondo lavorativo. Ed inoltre è un accrescimento per l'azienda agricola e anche per la cooperativa sociale perché è dalla possibilità di mettersi al servizio degli altri e questo credo che sia la cosa più importante che possa fare un'azienda agricola. Inoltre sono tutte aziende molto sensibili al cibo sostenibile, al territorio, al mantenimento della biodiversità. Direi che giornate come queste sono molto molto importanti perché danno la possibilità di far conoscere a più persone che cos'è l'agricoltura sociale.